La sequenza di attivazione è stata avviata. E' davvero pazzesco! Riesco a sentire l'energia degli elementi avvolgermi e scorrere nel mio bracciale. I vostri bracciali ora sono ultra bracciali. Se ne sarete degni, vi condurranno dei guerrieri mecha. I gormiti dell'energia mecha. Ehi, siamo stati promossi! Guardate qui! Ultra bracciali! I vostri bracciali ora hanno sia l'energia degli elementi che quella mecha. Come avrà fatto la torre a riuscirci? Magari la torre è mecha! Questo spiegherebbe molte cose! Preparatevi, piccoli gormiani! Gred sta arrivando! Allora mettiamo alla prova questi cattivoni! Giusto, ragazzi? Concentratevi! Oh, bene! È davvero incredibile! Elimineremo i Darkhan per sempre! Troppa forza! Allora, come faremo a trovare questi guerrieri mecha, secondo voi? Electrion ha detto che i bracciali ci avrebbero condotto da loro. Vediamo. Ehi, guardate qua! Da dove salta fuori questo aggeggio? Anni fa i sigilli erano sparsi in tutti e quattro i regni, per garantire che l'energia mecha non finisse mai nelle mani sbagliate. Guardate, questa runa è identica a quella sui nostri bracciali! Ehi, credo sia meglio non... Wow! Splendido! Ben fatto! Ora dovrete attivare tutti i sigilli con i vostri ultra bracciali per poter risvegliare i guerrieri mecha. Motak, Nucleon, Cosmium e Kionos. Durante la missione i bracciali vi guideranno da un sigillo all'altro, finché non arriverete nel luogo in cui si nasconde il guerriero mecha. Oh, forte! Una caccia al tesoro! Mi piace tantissimo! Bene, su, muoviamoci! Ora! Siete tutti pronti? Torre mecha in arrivo! Sì! Guardiani, usate anche voi gli ultrascudi! Ultrascudi? Noi non abbiamo ultrascudi, abbiamo soltanto gli ultrabracciali! Wow, ragazzi, guardate qui! Come sei riuscito a farlo! Gloomins! Trek, attento! Ehi, ne ho uno anch'io! Wow! Hai visto quel Gloomins come ha rimbalzato? Già, diamo a quei soldatini un assaggio della loro stessa medicina! Sì! Ora possiamo concentrarci! Aoki, siamo tornati in azione! Quanta energia ci serve ancora? Devo concentrarmi! È l'unica speranza! Wow! Alistar, so che sei ancora malato, ma abbiamo veramente bisogno della tua energia! Sì! Ragazzi, concentratevi ora! 100%! Trasformazione mecha attivata! Gormiti! Gormiti! Raggiungibili! Chi mi fermerà? The land is back! Legend is back! Gormiti! Gormiti!